Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Guido! E bravo Guido! Che stai preparato? Qualcosa di bello? Guido! Guido! Dove corri, disgraziato? Guido! Puoi salire da noi? Vieni qua, buffone. Ah, allora una parte che devo fare. Mi hai preso per me delle tue... Guido! Chi perché insomma mi crede io andare avanti così non ce la faccio più? Questo è un manicomio. Io definitivamente